Oltre 1.500 persone contagiate e 86 pazienti deceduti. Sono questi i numeri che fotografano la diffusione del coronavirus in Puglia da quando ha avuto inizio l'epidemia. Secondo le informazioni fornite nel bollettino regionale e aggiornato sulla base di quanto comunicato dal Dipartimento della Salute, sono stati 91 i nuovi casi di positività al virus registrati nella sola giornata di ieri, domenica 29 marzo. Un numero in linea con la media degli ultimi giorni ma che potrebbe essere stato arrotondato per difetto dato che l'ultimo comunicato ufficiale della regione non riporta i nuovi casi relativi alla provincia di Lecce. Gli esperti incrociano le dita visto che la curva degli infetti in Puglia sta mantenendo un andamento abbastanza costante nell'ordine del centinaio di nuovi casi in più in media al giorno. Provincia più colpita dal covid-19 resta quella di Bari che supera quota 500 casi seguita da quella di Foggia a 377. Più di 200 i positivi al virus anche nel territorio di Lecce mentre nel Brindisino il totale degli infetti è di 152. Più bassi i numeri relativi alle province di Taranto e Labat che contano rispettivamente 99 e 98 casi. E' certamente drammatico il dato che si riferisce ai morti complessivi legati alla malattia. 86 dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 15 solo nella giornata di ieri quando si sono registrati due nuovi decessi nella provincia di Bari, 10 in più in quella di Foggia che si conferma il territorio con il più alto numero di vittime, due nell'Eccese ed una nel Brindisino. Nel bollettino aggiornato non è riportato il caso del terzo operatore sanitario pugliese morto per l'epidemia. Si tratta di un 67enne fisiatra di Sanicandro di Bari che lavorava in un centro di riabilitazione. Gli altri due decessi riguardano un medico 59enne di San Severo in servizio a Torre Maggiore ed un 48enne operatore del 118 della Sanità Service di Foggia. Ed il pericolo contagio si fa sempre più concreto anche all'interno delle strutture sanitarie dopo i casi di positività accertati in molti ospedali della regione. Su tutti quelli di Castellanete ed Altamura dove al momento si contano rispettivamente 25 e 35 persone infette tra medici, infermieri e pazienti. Un nuovo allarme focolaio è scattato nel centro di riabilitazione Giovanni Paolo II di Putignano dove si registrano 24 casi di positività di cui 6 operatori e 18 pazienti mentre si attendono i risultati di altri tamponi. Un problema è quello dei contagi in corsia legato a doppio filo con la carenza di dispositivi di protezione individuale. Dopo la denuncia del governatore Michele Emiliano che ha lamentato gli scarsi approvvigionamenti giunti della protezione civile nazionale, ieri sera altre 42.000 mascherine sono state fatti arrivare in Puglia con un volo dalla guardia costiera, meno di un terzo del falbisogno giornaliero della regione. Intanto viene comunicato in una circolare dei direttori generali delle ASL pugliesi, tutto il personale impegnato nell'emergenza coronavirus potrà soggiornare temporaneamente presso strutture alberghiere vicine ai presidi sanitari. Questo per rendere più agevoli gli spostamenti verso i luoghi di lavoro ed evitare i contatti con i propri nuclei familiari.